Io se vedo una ragazza che cade giù dall'ultima vita e dico ma cosa c'è il fatto, cosa è successo? E invece ne hanno detto tre o quattro, una diversa dall'altra. La prima è che si è sentita male, è andato giù, ha vomitato e poi ha dato la testata contro la porta e poi, 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 insomma sono cose che ormai ne sono mezza Italia. Ecco, io dico la verità, sono anche stanco. È stanco il papà di Martina Rossi, la giovane che nel 2011 è volata giù dal terrazzo del sesto piano di un grande hotel a Palma di Majorca. Il dubbio che Martina non si fosse buttata ma stesse scappando da un tentativo di violenza sessuale ci pare ancora lontano dall'essere sciolto. Il problema è che dall'inizio questa storia sta diventando a Genova, diciamo, affogo dubestente. Era uno che raccontava sempre le stesse storie. Il problema è che Martina arriva, sta bene, sale in camera di questi ragazzi e improvvisamente vola giù dalla finestra, è la prima ragazza che fa una vacanza, è la prima che fa da sola, che prende l'apparecchio, contenta, conosciuta, ha parlato con un ragazzo e poi succede quello che succede. L'udienza preliminare ripresa questa mattina presso il Tribunale di Arezzo. Il gruppo Pier Giorgio Ponticelli ha accolto la richiesta della difesa dei due ragazzi Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi di Castiglion-Fibocchi coinvolti nel caso. Secondo la pubblica accusa, sostenuta dal PM Roberto Rossi, Martina scappava proprio da loro. Le intercettazioni di un'amica di Martina Rossi, che era in vacanza con lei, saranno adesso trascritte e andranno ad integrare la perizia. Oggi è stata un'udienza interlocutoria dove abbiamo preso atto del lavoro svolto dal perito. Il giudice ha ritenuto, anche con il consenso da parte della parte civile, di integrare il lavoro del perito, disponendo l'integrazione in parte della perizia e l'estensione della perizia ad altre intercettazioni. L'udienza è stata quindi rinviata il 22 settembre. Si allunga così il procedimento al termine del quale il gruppo dovrà esprimersi sul rinvio a giudizio di Luca e Alessandro.